Diciamo, c'è uno 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 Diciamo Diciamo, c'è uno 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 un'altra parte Voi André, vai André, vai André! Voi André, vai André, vai André! Voi André, vai André! Voi André, vai André, vai André! Il primo colpo è il destro, destra e sinistra. Il primo colpo è il destro, destra e sinistra. Il primo colpo è il destro, destra e sinistra. Il primo colpo è il destro, destra e sinistra. Il primo colpo è il destro, destra e sinistra. Il primo colpo è il destro, destra e sinistra. Gira, dom'è, gira. Il primo colpo è il destro, destra e sinistra. Calma, calma, quello che hai fatto. Il primo colpo è il destro, destra e sinistra. Grazie. 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 Li devi doppiare i colpi, Manuele, li devi doppiare i colpi, li hai trovato, li devi doppiare, sulle mani, bravo, tre colpi vicino, bravo, toccalo, 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 doppia lì, bravo, 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 bra mani, muovite ben troppo, dal movimento, dal movimento, bravo, dal movimento, posta a destra da voi, posta a destra, bravo, bravo, mettici quel gancho quando vai a destra, bravo, 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 sopra, 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 sopra Emanuele, bravo, alza le mani, gancho a destra, gancho a destra, via lavoro, stai a destra, non mi interessa non mi interessa le crowds, bravo, ma страх, si, bravo, 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 bravo,超ora, Vincere questo incontro per Capotici a 2 minuti e 38 secondi della seconda ripresa Emanuele Filchillo Emanucci Emanuele Filchillo